Riscoprire il dono del battesimo. È stata l'esortazione di Papa Francesco nella Catechesi all'udienza generale dedicata alla settimana di preghiera per l'unità dei cristiani che si chiuderà il prossimo 25 gennaio con i Vespri nella Basilica di San Paolo fuori le mura. Nel battesimo, ha ricordato il Papa, si condivide l'essere peccatore, il bisogno di essere salvati e redenti. È l'esperienza della morte, l'essere immersi nell'acqua, cui segue quella della rinascita, nuova vita in Cristo. Tutti, aggiunto, facciamo esperienza dell'egoismo che genera divisione, chiusura, disprezzo, ma nessuno è escluso dalla misericordia. Più si accoglie la grazia di Dio, più si diventa suo popolo, in cui ognuno è chiamato a trasmettere la misericordia ricevuta agli altri, partendo dai più poveri e abbandonati. La misericordia di Dio che opera nel battesimo è più forte delle nostre divisioni. È più forte. Nella misura in cui accogliamo la grazia della misericordia, noi diventiamo sempre più pienamente popolo di Dio e diventiamo anche capaci di annunciare a tutti le sue opere meravigliose, proprio a partire da una semplice e fraterna testimonianza di unità. Grazie. 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 Grazie.